capitolo 13 appena arrivato a casa rodolphe sedette con decisione allo scrittoio sotto il trofeo di una testa di cervo appesa alla parete ma quando ebbe la penna fra le dita non seppe farsi venire in mente nulla e appoggiandosi sui gomiti si mise a riflettere gli sembrava che emma fosse indietreggiata in un remoto passato quasi che la risoluzione presa avesse interposto fra loro d'improvviso una distanza enorme per riafferrare qualcosa di lei andò a cercare nell'armadio a capo del letto una vecchia scatola di biscotti di rems ove conservava le lettere d'amore e dalla quale sfuggì un odore di polvere umida e di rose appassite da prima trovò un fazzolettino cosparso di piccole macchie scolorite era un fazzoletto di emma quando ella aveva perduto sangue dal naso durante una passeggiata non se ne ricordava nemmeno più poi una miniatura regalata gli da emma sbattuta qua e là dalle sue mani nervose la guardò l'abbigliamento di lei gli sembrò pretenzioso e lo sguardo in tralice di pessimo effetto poi continuando a guardare questa immagine e a evocare il ricordo del modello i tratti del viso di emma gli si confusero nella memoria come se la figura dipinta e quella reale si fossero sovrapponendosi cancellate a vicenda lesse qualcuna delle sue lettere erano piene di spiegazioni sul loro prossimo viaggio brevi pressanti e pratiche come comunicazioni commerciali volle rileggere le più lunghe quelle di molto tempo prima per ripescarle dal fondo della scatola rodolf rimescolò tutte le altre e macchinalmente si mise a rovistare in quel mucchio di fogli e oggetti ritrovando senza alcun ordine logico mazzolini di fiori una giarrettiera una mascherina nera spille capelli capelli bruni biondi qualcuno dei quali rimasto impigliato nella scatola metallica al momento di aprirla si rompeva e così vagando fra i ricordi osservò la calligrafia e lo stile delle lettere diverse una dall'altra come l'ortografia di ognuna di esse erano tenere o allegre spiritose o malinconiche qualcuna chiedeva amore e qualche altra soldi ogni tanto una frase gli rammentava un viso dei gesti il suono di una voce o a volte proprio nulla tutte queste figure di donna che si susseguivano nella sua immaginazione si intralciavano reciprocamente e si ripetevano in una teoria uniforme resa tale da un sentimento amoroso che le metteva tutte sullo stesso livello prendendo a manciate le lettere in disordine si divertì per qualche minuto a lasciarle cadere come una cascata dalla mano destra alla sinistra poi stufo insonnolito rodolf ripose la scatola nell'armadio dicendosi quante frottole e questo riassumeva la sua opinione perché i piaceri a somiglianza degli scolari nel cortile di un collegio avevano talmente calpestato il suo cuore da inaridirlo del tutto e chi vi passava ancora più sventato dei fanciulli non poteva lasciarvi come loro invece facevano neppure il proprio nome inciso sul muro avanti si disse cominciamo scrisse coraggio emma deve avere coraggio non voglio essere la rovina della sua esistenza dopo tutto è vero pensò rodolf agisco nel suo interesse mi comporto da onestuomo ha ponderato bene la sua decisione ha pensato in quale abisso avrei potuto trascinarla povero angelo no vero lei cammina fiduciosa e folle credendo nella felicità nell'avvenire a siamo degli sventurati degli insensati rodolf si fermò cercando a questo punto una scusa plausibile se le dicessi che sono rovinato ah no e d'altra parte questo non cambierebbe nulla fra un po si sarebbe da capo ma si può far capire la ragione a donne simili riflettè e poi proseguì non la dimenticherò mai mi creda e serberò per lei una devozione profonda ma un giorno presto o tardi questo ardore è il destino delle umane cose certo finirà per diminuire sopraggiungerà la stanchezza e avrei avuto il dolore di assistere al suo rimorso e di parteciparvi io stesso essendone stato la causa il solo pensiero della disperazione in cui avrei potuto gettarla mi tortura emma mi dimentichi perché l'ho incontrata perché è così bella è stata colpa mia o mio dio no no incolpi soltanto la fatalità ecco una frase che fa sempre effetto si disse ah se lei fosse stata una di quelle donne dal cuore frivolo come ce ne sono tante certo avrei potuto per egoismo tentare un'esperienza senza danno per lei ma questa deliziosa esaltazione che costituisce al contempo il suo fascino e il suo tormento le ha impedito di intuire adorabile signora la falsità della nostra posizione futura io stesso da prima non avevo riflettuto riposavo all'ombra di quella felicità ideale come avrei potuto fare sotto il manzaniglio senza prevederne le conseguenze adesso potrebbe credere che rinuncio per avarizia non mi importa tanto peggio bisogna pur farla finita no il mondo è crudele emma ovunque avessimo potuto recarci ci avrebbero perseguitato sarebbe stato inevitabile per lei dover rispondere a domande indiscrete dover subire la calunnia il disprezzo l'oltraggio forse offendere lei oh e io che vorrei vederla su un trono io che considero il suo affetto come un talismano perciò voglio punirmi con l'esilio per tutto il male che le ho fatto parto per dove non lo so mi sento impazzire addio sia sempre così buona come io la conosco serbi almeno un ricordo di quel disgraziato che l'ha perduta insegni il mio nome alla sua bambina affinché lo ripeta nelle sue preghiere lo stoppino delle due candele tremolava rodolphe si alzò per chiudere la finestra e quando si mise a sedere pensò mi sembra di avere detto tutto ah ancora una cosa per essere sicuri che non venga a riacciuffarmi sarò lontano quando leggerà queste tristi parole ho voluto fuggire per il timore di cedere alla tentazione di vederla ancora niente debolezze ritornerò e forse un giorno ci sarà possibile ricordare insieme con molto distacco i nostri trascorsi amori addio e aggiunse un ultimo addio in parole distinte a dio che giudicò di ottimo gusto e adesso come mi firmo si domandò suo devotissimo no il suo amico sì così va bene il suo amico rilesse la lettera e ne fu soddisfatto povera piccola pensò con tenerezza mi crederà più insensibile di una roccia ci sarebbe voluta qualche lacrima qui sopra ma non riesco a piangere non è colpa mia prese allora un po d'acqua in un bicchiere vintinse un dito e lasciò cadere una grossa goccia che fece scolorire un poco l'inchiostro poi quando volle sigillare la lettera gli capitò sotto mano il sigillo con il motto amor nel cor non è molto adatto alla circostanza ma che importa dopodiché fumò tre pipe e se ne andò a dormire l'indomani appena si fu alzato verso le due circa aveva dormito fino a tardi rodolphe ordinò che cogliessero un paniere di albicocche nascose la lettera sul fondo sotto le foglie di vite e ordinò subito a girare il suo bracciante di fare attenzione e di portarlo alla signora bovary si serviva di questo sistema per corrispondere con lei mandandole a seconda della stagione frutta o selvaggina se ti domanda mie notizie disse dirai che sono partito per un viaggio devi consegnare il paniere nelle sue mani va e bada di fare le cose come si deve girare si mise un camiciotto nuovo annodò un fazzoletto intorno alle albicocche e camminando a lunghi passi pesanti con le grosse scarpe chiodate prese senza affrettarsi la via di yonville la signora bovary quando egli arrivò stava riordinando un mucchio di biancheria sulla tavola di cucina insieme con felicitè il padrone le manda questo disse il contadino emma si sentì afferrare dall'ansia e cercando qualche moneta in tasca osservò il contadino con occhi selvaggi mentre anche lui la guardava stupito senza capire come un simile regalo potesse turbare tanto qualcuno finalmente se ne andò ma felicitè rimase non riuscendo più a trattenersi emma corse nel tinello con la scusa di portarvi le albicocche rovesciò il paniere strappò le foglie trovò la lettera l'aprì e come se avesse alle spalle uno spaventevole incendio fuggì atterrita in camera sua vi trovò charles lo vide lui le rivolse la parola senza che emma capisse cosa le era stato detto ella continuò pertanto a salire di corsa ai gradini ansimante smarrita ebra e sempre con quell'orribile foglio di carta fra le dita che faceva tanto rumore quanto un foglio di lamiera al secondo piano si fermò davanti alla porta accostata del solaio cercò di calmarsi si rammentò della lettera doveva finire di leggerla e non ne aveva il coraggio e poi dove come fare per non farsi scorgere ecco qui non mi vedrà nessuno pensò starò tranquilla spinse la porta ed entrò l'ardesia del tetto riverberava un calore greve che le serrò le tempie e la soffocò si trascinò fino all'abbaino chiuso tirò il catenaccio e di colpo la luce accecante dilagò davanti a lei al di là dei tetti l'aperta campagna si stendeva a perdita d'occhio sotto la piazza del villaggio era deserta i ciottoli del marciapiede scintillavano le banderuole delle case rimanevano immobili all'angolo della strada da un piano più basso proveniva una sorta di ronzio con modulazioni stridenti era binè al tornio si appoggiò al vano della finestra dell'abbaino e rilesse la lettera con pesatine sarcastiche ma quanto più cercava di concentrare la propria attenzione tanto più le idee le si confondevano nella mente lo rivedeva lo ascoltava lo circondava con le braccia i battiti del cuore le martellavano nel petto colpi d'ariete accelerando a intervalli regolari si guardò intorno avrebbe voluto che il mondo crollasse perché non farla finita cosa la tratteneva era libera si sporse guardando il selciato e dicendosi avanti fallo il raggio di luce che saliva diritto dal basso sembrava volesse attirare nel baratro il peso del suo corpo le parve che la superficie della piazza si sollevasse oscillando lungo i muri e che il pavimento si inclinasse da una parte come una nave che beccheggi si teneva afferrata ai bordi della finestra quasi sospesa circondata da un gran vuoto si sentiva fondere con l'azzurro del cielo la testa leggera come d'aria non doveva fare altro che cadere lasciarsi andare e il ronzio del tornio non desisteva come una voce insistente che la chiamasse emma emma gridò charles si immobilizzò dove sei vieni l'idea di essere appena sfuggita alla morte per poco non la faceva svenire di terrore chiuse gli occhi poi trassalì al contatto di una mano sul braccio era felicitè il signore l'aspetta signora la minestra in tavola dovette scendere dovette mettersi a tavola cercò di mangiare ma i bocconi la soffocavano spiegò il tovagliolo come se intendesse esaminarne i rammendi e volle davvero applicarsi al lavoro di contare i fili della tela all'improvviso si ricordò della lettera l'aveva perduta dove poteva essere sentì una stanchezza mentale così grande che non sarebbe stata in grado di inventare un pretesto qualsiasi per alzarsi da tavola era divenuta vile oltretutto aveva paura di charles certo sapeva ogni cosa infatti per una strana coincidenza disse a quanto pare non rivedremo tanto presto il signor rodolphe chi te l'ha detto trassalì emma chi me l'ha detto rispose lui un po stupito dal tono brusco della moglie girar l'ho incontrato poco fa sulla porta del caffè francese deve partire o è già partito per un viaggio emma ebbe un singulto come mai ti stupisci si assenta di tanto in tanto per distrarsi e per bacco lo approvo quando uno è benestante e non ha moglie del resto si diverte allegramente l'amico è un buon tempone il signor langlois mi ha raccontato tacque per convenienza perché era entrata la domestica quest'ultima dispose di nuovo nel paniere le albicocche sparse sulla credenza charles senza accorgersi del rossore della moglie se le fece portare ne prese una e l'addentò oh ottime disse assaggiale e tese il paniere ma emma lo respinse ad agio senti che profumo disse charles facendole passare ripetutamente un frutto sotto il naso soffoco gridò lei alzandosi di scatto ma grazie a uno sforzo della volontà lo spasmo si sciolse non è niente disse poi non è niente sono i nervi siediti e mangia temeva che le facessero domande che volessero curarla che non la lasciassero più in pace charles per non contrariarla si era rimesso a sedere e sputava in mano i noccioli di albicocca mettendoli poi nel piatto all'improvviso un tilburi azzurro attraversò di gran carriera la piazza emma lanciò un grido e cadde irrigidita e riversa a terra rodolfi infatti dopo molte riflessioni si era deciso a partire per rouen e siccome non vi erano altre strade per andare dalla uscette a bouchy se non quella che passava per yonville era stato costretto ad attraversare il villaggio ed emma l'aveva riconosciuto alla luce delle lanterne che fendevano il crepuscolo come un lampo il farmacista si precipitò nella casa del medico attirato dalla confusione incredibile che vi regnava la tavola con tutte le stoviglie era rovesciata la salsa la carne i coltelli la saliera e l'oliera tutto era sparso per la stanza charles chiedeva aiuto bert spaventata piangeva e felicitè con le mani tremanti slacciava gli abiti alla padrona che aveva il corpo scosso da movimenti convulsi vado a prendere disse lo speziale un po di aceto aromatico in laboratorio poi siccome emma dopo aver annusato il flacone riapriva gli occhi disse nero certo questo sveglierebbe un morto parla diceva charles parla cerca di riprenderti sono qui io il tuo char che ti ama mi riconosci guarda c'è la tua bambina dalle un bacio la bimba tese le braccine verso la madre per farsi prendere in collo ma voltando la testa emma disse con voce rotta no no nessuno e svenne di nuovo la portarono a letto emma vi rimase distesa la bocca aperta gli occhi chiusi le mani posate immobili con i palmi in giù pallida come una statua di cera dagli occhi due rivoletti di lacrime scendevano ad agio sul guanciale charles rimaneva in piedi in fondo all'alcova e accanto a lui il farmacista osservava quel silenzio meditativo che conviene mantenere nelle occasioni più serie della vita si rassicuri disse il farmacista stringendogli il braccio credo che il peggio sia passato si sta riposando un poco adesso rispose charles guardando la moglie dormire povera donna povera donna ha avuto una nuova ricaduta homè domandò allora in che modo si fosse sentita male charles rispose che la crisi l'aveva salita d'improvviso mentre mangiava albicocche straordinario rispose il farmacista è possibile che siano state le albicocche a provocare la sincope vi sono persone sensibilissime a certi odori sarebbe un interessante argomento di studio sia dal punto di vista patologico sia da quello fisiologico i preti ne conoscono l'importanza infatti hanno sempre mescolato i profumi alle loro cerimonie lo fanno per ottundere l'intelletto e provocare uno stato di estasi cosa facile da ottenere nelle donne che sono più delicate degli uomini ho sentito dire di donne che svengono all'odore del corno bruciato o del pane fresco stia attento a non svegliarla disse sottovoce bovary e non soltanto gli esseri umani vanno soggetti a questi fenomeni continuò il farmacista ma anche gli animali così conoscerà benissimo l'effetto afrodisiaco prodotto dalla nepeta cataria volgarmente detta erba gattaria sui felini e d'altra parte per citare un esempio che garantisco autentico bridu uno dei miei vecchi compagni di studi attualmente stabilito in via malpalù possiede un cane che viene preso dalle convulsioni appena gli si fanno usare una tabacchiera spesso egli fa questo esperimento alla presenza degli amici nella sua villetta al bois guillaume e chi potrebbe credere che una semplice polvere per starnutire possa provocare tali sconvolgimenti nell'organismo di un quadrupede è una cosa molto interessante non è vero sì disse charles che non lo ascoltava questo dimostra continuò l'altro con un'aria di benigna sufficienza le stranezze senza fine del sistema nervoso per quanto concerne la signora confesso che mi è sempre sembrata una vera sensitiva pertanto non le consiglierei amico mio nessuno di quei pretesi rimedi che con il pretesto di fare scomparire i sintomi turbano il carattere no niente medicamenti inutili curare il regime ecco tutto qualche sedativo qualche emolliente o dolcificante e non crede che sarebbe bene poter insistere sull'immaginazione e come domandò bovary ah questo è il problema eh sì questo è il problema that is the question come ho letto ultimamente sul giornale ma emma svegliandosi gridò e la lettera la lettera credettero che delirasse e lo ebbe effettivamente il delirio a partire dalla mezzanotte quando si manifestò una febbre cerebrale per 43 giorni charles non la lasciò un istante abbandonò tutti i suoi pazienti non si coricò più ogni momento le tastava il polso le applicava senapismi impacchi d'acqua fredda mandò justin fino a neuf chatel a prendere il ghiaccio che si scioglieva strada facendo e allora il poveretto tornava indietro a prenderne dell'altro chiamò a consulto il signor canivè fece venire da rouen il dottor la rivière il suo vecchio maestro era disperato a spaventarlo soprattutto era lo stato di abbattimento di emma non parlava non ascoltava nulla e perfino sembrava non soffrisse come se il suo corpo e la sua anima si fossero riposate insieme di tutte le passate agitazioni verso la metà di ottobre cominciò a essere in grado di mettersi a sedere sul letto appoggiata ai guanciali charles pianse quando la vide mangiare per la prima volta una tartina con la marmellata stava riacquistando le forze incominciò ad alzarsi per qualche ora nel pomeriggio e un giorno in cui si sentiva meglio del solito charles provò a farle fare una passeggiatina in giardino al suo braccio la sabbia dei vialetti scompariva sotto le foglie morte emma camminava ad agio trascinando le pantofole e appoggiandosi con la spalla contro il marito continuava a sorridere andarono così fino in fondo al giardino vicino alla terrazza emma si raddrizzò lentamente riparandosi gli occhi con la mano per vedere meglio scrutava lontano il più lontano possibile ma non verano che fuochi di paglia all'orizzonte che bruciavano sulle colline finirai per stancarti cara disse bovary e la spingeva con dolcezza per guidarla sotto la pergola siediti sulla panca starai comoda oh no la no la no disse emma con la voce fioca si sentì male e da quella sera la malattia ricominciò ma con un andamento più incerto per la verità con sintomi più complessi talora era il cuore a farla soffrire poi il petto la testa gli arti ebbe crisi di vomito che charles interpretò come i primi sintomi di un cancro e il pover uomo come se non bastasse aveva preoccupazioni finanziarie grazie a tutti grazie a tutti